E C'è un sacco di gente Non te l'aspettavi? Infatti mi faceva strano vederti qui Perché li ho visti a Roma, c'era la metà della gente Quindi Li hai visti più di me allora? Eh sì, sono fighissimi Sì, sì, cioè il mio gruppo preferito Non è vero, cioè di adesso Forse Vabbè, magari poi mi fai una lista L'unica cosa di cui abbiamo bisogno Per diventare buoni filosofi È la capacità di stupirci Non vado uno sguardo al libro che avevi sul tram Non lo so, non lo conoscevo Però è veramente, veramente forte È figo Allora vatti a leggere la parte del coniglio bianco Cioè che è vero che è più facile Invece di arrampicarci Di arrampicarci in cima alla pelliccia Allora l'hai letto quasi tutto Quasi Sì, cioè invece di arrampicarci Le stiamo sempre giù Insieme a tutti gli altri E smettiamo di farci domande Magari perché è più comodo, no? Sì, ma sarebbe bello stare in alto Cioè, tipo, sentire il vento e chiedersi cos'è Senti, ma domani è da fare? Domani devo studiare Mi sa che ora sto da sola Vado a cercarlo No, no, no Tranquilla, vado io tu Sta pure qui Non bevo alcoli, c'è Certo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.